Salve a tutti, in questo video parleremo di come si fanno le dirette con OBS Studio Io vi parlerò di come si fanno con Youtube Perché Youtube? Perché Youtube non fa le dirette tutto da solo ma si deve appoggiare a un codificatore e in questo caso è OBS Studio Allora, ci apriamo il nostro browser andiamo su Youtube, mettiamo il nostro login se non l'abbiamo fatto e abbiamo la nostra pagina di Youtube, il nostro canale Allora, si clicca sul pulsante a forma di videocamera col più al suo interno si fa trasmetti video Allora, qui il programma carica un'altra pagina e qui mi sta dicendo guarda che tanto tempo fa hai fatto un'altra diretta streaming vuoi continuare quella o fare una nuova? Io ne faccio una nuova Allora, scrivo il nome del titolo della diretta streaming cioè prova per tutorial qua posso dire se pubblica, se non in elenco privata poi una descrizione, tante cose da spiegare la tipologia di video per categoria poi posso programmarlo più tardi vedremo più tardi come si programma più tardi scusate mi tocco le parole posso caricarlo in miniatura oppure crea stream allora, creiamo lo stream che è quello che ci interessa a noi adesso quello che ci viene fornito è una chiave che è questa stream da incollare nel codificatore copio mi apro un'altra sessione di OBS perché una sta registrando questo video qui vado in impostazioni ok, si apre il menu impostazioni nella sezione dirette e vuoi ricordarmi di mettere youtube, gaming perché non c'è nessun'altra versione di youtube utilizzabile il primary server va benissimo e incollo la chiave poi faccio salva ok, fatto questo qua posso fare transmetti dal vivo e di qua posso fare avvia la diretta ok, adesso che ho avviato la diretta su OBS e ho cliccato su trasmetti dal vivo e ci vuole un po' di tempo perché magari la mia connessione non è velocissima perché si, mi hanno venduto una fibra ma non ha 100 va molto più lenta va a 20 e credo che in upload vada giusta giusta 8 quindi qualcosa potrei perdere di qualità del video ecco e questo è quello che si sta vedendo su l'anteprima allora diciamo che una cosa interessante la videocamera la sto già utilizzando per il video tutorial quindi non posso utilizzarla per due programmi insieme e quindi in questo momento non mi si vede però comunque è quello che sta andando e potrei abilitare l'audio interessante la videocamera la sto già utilizzando per il video tutorial quindi vedi che avete sentito la mia voce che stava dicendo una frase che ho detto qualche secondo prima perché questo è il ritardo dello streaming allora potrebbe essere interessante lo streaming si no praticamente poi cosa avete qua una specie di chat quindi qua potete scrivere sulla vostra destra ciao benvenuti chi si collegherà vedrà la chat e una cosa interessante nelle impostazioni che forse può darvi la mano è che se siete da soli a fare questa live streaming magari la gente scrive 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 non riuscite a leggere tutto allora potete abilitare la modalità lenta cioè un utente prima di mandare il prossimo messaggio deve aspettare in questo caso 60 secondi così non è che scrive 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 avete vari 100 utenti collegati tutti gli stupi non comporre nello stesso momento non riuscite a vedere e leggere i contenuti di questo può essere una buona cosa quando avete terminato la vostra live streaming basta che su OBS studio fate termina la diretta adesso qua diamogli un attimo di tempo perché è terminata la diretta ok è finita la diretta e il vostro file video comunque è stato salvato perché adesso se vado qui ok torno qui webcam allora qua potrei dire cosa abilitare cosa non abilitare ok ok ti dico qua sullo stream dovrei tornare sulla mia pagina credo ecco se torno sulla mia pagina e vado sulla mia pagina proprio il mio canale quando se vado su video che ci sono tutti messi in ordine quella live streaming deve essere salvata qui quindi la troveremo qui da qualche parte comunque c'è però la cosa interessante è che se fate cavolate siete in diretta in internet la gente magari vi sta seguendo e quindi importantissimo prepararsi prima perché non si può riprovare 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 finché non ci è fatto giusto quindi il mio consiglio principale ancora prima di iniziare a utilizzare un sistema di live streaming è semplicemente signori signori solo quando avete un casino di follower e siete sicuri al 100% della vostra performance in live streaming potete pensare di fare live streaming allora avevo saltato una semplice cosa che nella versione live streaming quando si crea c'è la possibilità di posticipare la live streaming allora come funziona se io faccio nuovo streaming compilo come voglio poi qua gli metto questo faccio programma più tardi gli dico quando tipo voglio che ogni giovedì alle 21 faccia un video tutorial in live allora metto giovedì prossimo alle 21 ok e il risultato è che fra le live streaming si vedrà la live streaming adesso ne faccio una xxx pubblica xxx anche alle 22 ok crea stream quello che è importante è che non solo vi crea lo stream e basta qui potete fare condividi e fate inizio da zero potete fare anche incorpora e vi fa vedere la vostra prima ah il video xxx in streaming che sarà a tal giorno ok sarà così visibile ai vostri utenti perché voi questa pagina potete copiarla infatti qua c'è tutto il codice potete copiarlo su una mail su tutti i social sulla vostra pagina di un blog sul vostro sito in wordpress ci fate quello che volete ed è il modo più corretto per farvi un po' di pubblicità ok per questo video tutorial è tutto ci vediamo al prossimo un po' un po' Grazie a tutti